Buongiorno amici e fratelli, rosa nero, amici in generale di YouTube. Allora, oggi è martedì 25 maggio, vi voglio ricordare che domani alle ore 20.45 ci sarà la partita di ritorno tra Avellino e Palermo. Il Palermo che ha vinto 1-0 la partita d'andata, quindi ha due risultati positivi su tre per passare il turno. Non ci dobbiamo cullare su questo perché altrimenti sarebbe la nostra rovina. Faccio questo video per dirvi che domani la live non sarà su questo canale, cioè Luigi rosa nero, ma saremo in live sul canale Twitch di JustTiger. Quindi ci vediamo sul canale Viola, io vi linko qua sotto il canale di JustTiger, così vi iscrivete, vi arriva la notifica che domani guarderemo insieme Avellino e Palermo. Se nel frattempo che guardate noi ovviamente volete guardare il Palermo, sappiate che domani lo potrete guardare su Rai Sport, Sky Sport, Eleven Sport come televisione, in streaming su Rai Play e su Eleven Sport. Quindi ragazzi, io e JustTiger vi aspettiamo domani per sostenere il nostro Palermo, per fare quest'altro passo in avanti e poter continuare a sognare la Serie B. Per il resto non ho altro da dire, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, commentate, condividete. Iscrivetevi al canale di Luigi rosa nero, iscrivetevi al canale di JustTiger, vi lascio il link qui sotto, così domani vi arriva la notifica per la live della partita. Io vi saluto, vi auguro buona giornata nel bene e nel male, sempre forza Palermo!